Buona giornata a tutti, ben ritornati negli studi di Teleradio Pace, questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi 27 di febbraio, siamo arrivati così a lunedì il primo giorno di questa nuova settimana che ci condurrà molto brevemente perché mercoledì sarà già il primo di marzo quindi ci condurrà nel terzo mese del 2023 e allora andiamo a vedere in questa giornata quali sono i santi ricordati e festeggiati quest'oggi andiamoli a vedere insieme, oggi la chiesa ricorda e festeggia San Gabriele della Dolorata e poi che nacque ad Assisi il primo marzo 1838 con il nome di Francesco Possenti poi evidentemente cambiò, prendendo i voti divenne Gabriele della Dolorata poi altri santi ricordati oggi sono San Gregorio di Narec, Beata Maria di Gesù del Will Martini Sant'Anna Lain Martire, appunto San Giuliano di Alessandria Martire, San Baldomero Beata Maria Carità dello Spirito Santo Brader e ancora Santi Basilio e Procopio San Besa 61 di Alessandria, tutti martiri Beata Francesca Anna della Vergine Adolorata, Beato Guglielmo Richardson Sacerdote Martire San Luca di Messina e anche Sant'Onorina Martire auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono che in questa giornata del 27 febbraio compiono gli anni e quindi festeggiano il loro compleanno e auguri naturalmente di buona settimana a tutti voi allora siamo reduci dalla prima domenica di quaresima quindi siamo nel periodo forte della chiesa e siamo anche reduci da una fine settimana veramente a due velocità totalmente diverse cioè nella giornata di venerdì e di sabato abbiamo avuto i soliti due giorni di diciamo cielo nuvoloso con qualche precipitazione sporadica ma molto caldo con un clima mite che ci faceva ricordare l'autunno più che l'inverno mentre invece da ieri mattina siamo sprofondati nell'inverno classico anzi un inverno particolare con una tramontana nera così si chiama la tramontana che viene appunto rilevata nei giorni nuvolosi perché ieri era nuvoloso anzi molto nuvoloso con qualche precipitazione e la tramontana quindi giornata davvero molto molto fredda quella di ieri e giornata fredda che quella di oggi le temperature sono precipitate quasi ovunque ma soprattutto sulle alture ricorderete e se non ve lo ricordate ve lo dico io che negli ultimi giorni della scorsa settimana le temperature erano tornate ad essere lievemente negative sul Monte Bue sul Prato della Cipolla ma parliamo di meno un grado meno 0,4 cioè erano veramente comunque temperature ancora elevate rispetto al periodo ma qualche giorno fa avevamo i 5-6 gradi sopra lo zero addirittura sul Monte Bue oggi troviamo meno 10 gradi la notte infatti ha fatto scendere e precipitare le temperature a meno 10.1 Monte Bue chiaramente vediamo la foto è immerso ancora nella nuvolosità ma ancora con la neve la neve che forse vediamo meglio sul Prato della Cipolla vedete una bella nevicata piuttosto importante con un'accumulata significativa anche se non chiaramente ci vorrebbe ancora tanta neve ancora tanta neve per fare un manto ancora più alto però insomma tutto sommato è una nevicata di tutto rispetto che purtroppo arriva a fine quasi fine stagione però forse ci voleva prima ma vabbè insomma si vedrà quanto si riuscirà a mantenere questa neve è una temperatura di meno 7.8 in questo momento sul Prato della Cipolla Rocca Davido invece che è diciamo parzialmente vedete che il tetto per esempio è privo di neve però insomma è una temperatura di meno 5.2 con un wind chill intorno ai meno 8.2 quindi il vento freddo fa percepire delle temperature decisamente più alte e nella notte qui più o meno la temperatura è scesa sui meno 5.7 andando più velocemente sulla bassa Valdaveto abbiamo meno 0.3 a Rezzoaglio basso meno 1.6 a cabanne di Rezzoaglio e anche qui appunto la neve è scesa piuttosto copiosa vediamo appunto una bella copertura nuvolosa sulla bassa Valdaveto quindi tutta la Valdaveto è imbiancata dall'inizio alla fine l'avevamo detto perché c'era anche un'allerta neve da quelle parti e appunto ad essere colpiti sono i versanti padani quindi oltre il passo della forcella poi comunque avremo altre immagini più avanti nel corso della nostra giornata per quanto riguarda invece la Sturla non è stata imbiancata a 2.3 gradi in questo momento a bel piano un grado è stata la minima nella notte un grado punto 4 un grado la minima anche in Valle Graveglia a Pontori adesso siamo a 2 gradi punto 7 un grado e 7 a Favale di Malvaro 0,8 a Pian dei Preti di Tribogna qua un po' di neve si vede un po' di nevischio diciamo che si è attaccato si vede questa è la Val Fontana Buona quindi priva di neve nel fondo valle qualcosina proprio sulle cime più alte però poca roba poi andiamo invece a vedere le altre temperature Pezzonasca appunto a fondo valle la minima è stata di 3.6 1.6 a Villa Oneto di San Colombano e non è successo quello che è successo l'altra volta beh se vediamo un po' di imbiancatura di tetti ecco poca roba su Villa Oneto comunque vediamo un magnifico panorama che si può godere con tutte le vete più alte e imbiancate un'infarinatura di neve proprio mentre invece vediamo che appunto come detto anche prima il fondo valle è abbastanza no è senza neve poi andiamo invece a vedere sulla costa con temperature che forse si aspettavamo un po' più basse invece insomma hanno abbastanza resistito tutto sommato 5 gradi e 2 a Santa Margherita 4 gradi e 9 a Rapallo 5 gradi e 2 a Chiavari 5 gradi e 4 a Lavagna 5 gradi e 8 a Sestri Levante e 4 gradi e 9 addirittura più bassa ancora la temperatura di Moneglia diversamente invece è andata a Genova Genova ha avuto temperature molto molto rigide con 3 gradi e 3 a Marassi con anche il Ponente Pra con 3 gradi e 3 qualche punta naturalmente un po' più in alto 247 metri di Granarolo con 1 grado e 2 in questo momento 0.8 nella notte quindi temperatura bassa l'unica che fa un po' diciamo così a sé è diciamo la parte verso il Golfo Paradiso a Nervi la temperatura è distatta di 5 gradi e 3 freddo freddo anche a Savona con 2 gradi e 8 meno freddo invece nel Ponente e nell'estremo Levante a Imperi a 6 gradi e 7 a 20 miglia 8 gradi e 4 e a La Spezza 6 gradi e 1 quindi temperature che sono sì scese ma non crollate proprio completamente sulla costa ma l'effetto vento ci fa percepire delle temperature decisamente più basse quindi sappiamo che il wind chill a volte diminuisce le temperature di 3-4 gradi quindi con questo vento che vediamo anche nella nostra inquadratura perché fortunatamente non c'è il terremoto è solo la telecamera appesa al nostro traliccio del nostro tetto che appunto è alla merce del vento in questo momento che soffre ancora molto forte e soffrerà forte per gran parte della mattinata ci sarà un calo di intensità nel pomeriggio poi domani riprenderanno venti forti di burrasca da nord però in un contesto di tempo più soleggiato quindi domani avremo più sole non è detto che nel pomeriggio di oggi non vedremo il sole qualche punto di schiarita ci sarà qualche raggio di sole insomma riuscirà a trafiggere le nuvole però domani invece la situazione sarà di tempo maggiormente soleggiato ma freddo con appunto la tramontana che soffrirà ancora molto forte potrebbe essere che a metà settimana inizio mese di marzo che tra l'altro il primo marzo per i meteorologi l'inizio della primavera in realtà sarà una giornata ancora fredda con delle nevicate soprattutto sull'arco appenninico piuttosto importanti quindi se verrà confermata questa previsione mercoledì avremo nuove nevicate comunque le nevicate andranno un pochino più avanti cioè ci sarà ancora un po' di residua neve anche nel corso della giornata di oggi non saranno più precipitazioni particolarmente intense mentre invece il tempo sarà asciutto in tutti i sensi e anche molto secco diciamo così sul nostro territorio quindi oggi non dovremmo avere delle precipitazioni qua sul Levante sulla costa di tutta la Liguria dovrebbe non piovere per tutta la giornata ma come sempre per le previsioni più diciamo così diciamo precise e analitiche vi diamo l'appuntamento alla fine della nostra seconda edizione del Tg Rassegna Stampa adesso è arrivato proprio il momento grazie anche alla regia di Alessandro Bavestrello che saluto per la parte tecnica quest'oggi invece Andrea Capitani che è presente già in redazione che tra poco vedremo appunto andiamo a leggere insieme i quotidiani come sappiamo oggi essendo lunedì non è in edicola avvenire e allora andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera nella sua versione online ma anche nella versione cartacea il titolo di apertura è alle primarie del PD che si sono celebrate ieri in tutta Italia nei cosiddetti gazebo poi in realtà nel nostro territorio non c'erano i gazebo erano tutti i seggi al chiuso ma comunque anche perché insomma ieri faceva freddo con i gazebo ieri sarebbero volati un po' di gazebo qua sul nostro territorio Ellie Schlein vince le primarie e lei è la nuova segretaria ora si cambia davvero il primo discorso di Bonaccini chiaramente che ha fatto la sua diciamo così anche assunzione di colpa ha detto forse la Schlein è stata più brava di me a raccontare un nuovo PD forse Bonaccini è stato visto come un po' l'establishment che rimaneva in sella al partito e quindi è stato diciamo non premiato dai non iscritti perché in realtà sappiamo che Bonaccini tra gli iscritti aveva raggiunto il massimo delle preferenze rispetto alla Schlein tranne che in Liguria poi lo vedremo dopo la squadra esultano i big ma lei proverà a schierare anche volti nuovi quindi tra i vari vincitori c'è anche il Ligure Orlando Valentina Ghio quindi insomma ci sono dei Liguri che saranno sicuramente avranno sicuramente degli incarichi importanti all'interno del partito Crotone almeno 60 morti sopravvissuti al naufragio noi gettati in mare a 500 metri dalla spiaggia dicono alcuni superstiti è davvero una tragedia quella che è accaduta vediamola rotta da Smirne quindi in Turchia attraversando il mare Egeo si arrivava fino a Crotone che è la parte ionica della Calabria e in questo viaggio chiaramente era andato tutto abbastanza bene poi a 500 metri arriva qualcuno dice addirittura a 100 metri si è rotta l'imbarcazione quindi sono sprofondati in mare con un mare come vedete anche dalle immagini mossissimo quindi una situazione in cui davvero è difficile sopravvivere e anche in questa tratta si dice ci sono molti meno ONG le ONG sono più dal versante diciamo libico tra la Libia e la Sicilia da questa parte non ne girano molte quindi nessuno ha prestato soccorso non appunto alla fine gli uomini della protezione civile attacchi russi nella notte in Ucraina Kiev abbattuti dalla contraerea tre droni Putin l'Occidente vuole smembrarci naturalmente un po' la visione della storia capovolta dalla parte dalla prospettiva Niemski dalla prospettiva di Putin ecco prospettiva Putin potrebbe essere questo il titolo però lui vede questa invasione della Nato in questo conflitto che lui ha iniziato o comunque ha dato il via con l'invasione del 24 di febbraio la lite delle tredicenni per un ragazzino ferita a forbiciate se lo meritava Castel Belforte a Mantova quindi siamo partiti con la cronaca il ricordo di Marianna Cendron che da dieci anni non ha più fatto vere sue notizie la madre tremiamo ogni volta che viene trovato un corpo aveva 18 anni quando scomparse a Treviso appunto Marianna e di lei non si è più saputo nulla e poi c'è un mistero a Napoli cadavere ritrovato in mare con una corda al collo forse strangolato e poi gettato in acqua il corpo potrebbe avere cioè la vittima potrebbe avere tra i 35 ai 40 anni e un polso a due lettere tatuate e poi vabbè la incredibile fuga di un boss della malavita dal carcere di Nuoro con il classico metodo delle lenzuola arrotolate ma attenzione perché aveva le chiavi per uscire dal corciere del carcere delle collaborazioni delle chiaramente dei suoi c'era un piano ben specifico con anche forse delle infiltrazioni all'interno chissà di cosa quindi si andrà a indagare chiaramente perché questo è davvero molto molto strano molto particolare e poi ancora Bassano 17 anni in rianimazione per la meningite batterica gravissimo e poi il maltempo che ha colpito chiaramente non solo la Liguria ma gran parte del centro e del nord con nevicate anche a quote basse sulla pianura padana e adesso andiamo invece a vedere la prima pagina del secolo XIX che titola Apocalisse sulla spiaggia naturalmente si parla di Crotone il bilancio provvisorio di 74 vittime molti bambini imprecisato il numero dei dispersi salvati sono 82 ricerche proseguite anche durante tutta la notte con la guardia costiera naturalmente in prima linea Crotone barcone carico di migranti spinto dalle onde contro gli scogli decine di morti sulla renina Mattarella l'Unione Europea serve più impegno nella lotta traficanti il ministro piantedosi non dovevano partire dietro la tragedia il fallimento della politica il commento di Alessandro De Angelis e poi le voci dei sopravvissuti dove sono i miei figli lo strazio dei superstiti che hanno perso tutti e poi ancora naturalmente le primarie del PD Slyna Valanga svolta nel PD e lei la segretaria a un milione di voti e poi il secolo chiaramente sottolinea il fatto che la Schlein aveva vinto soltanto in Liguria tra gli iscritti la Liguria pilota la tendenza è iniziata qui e poi Annalisa Cuzzocrea commenta mossa obbligata a cambiare tutto per non morire il PD insomma è un po' l'ultima spiaggia diciamo adesso senza fare allusioni con i fatti di cronaca poi Spezia buon 2-2 Udine la Samp prova l'impresa Blu Cerchiati contro appunto saranno contati con la Lazio perché la partita ci si deve ancora giocare si giocherà oggi nel recupero nel posticipo ma ci sarà ancora un posticipo domani questo campionato spezzatinissimo e poi Prorecco inarrestabile e dominio in Coppa Italia quindi ancora una volta un piccolo paese come Recco in capo al mondo della palla nuoto italiana sulla vetta assolutamente contro le grandissime del campionato non ce l'hanno fatta neanche non è che il Brescia che sperava di riuscire a conquistare questa Coppa Italia che è andata invece ancora una volta la Prorecco decimo trionfo consecutivo commissione la giungla che frena l'uso del post più colpiti i piccoli negozi va bene questa è la prima pagina del secolo ma andiamo a vedere le pagine interne appunto le primarie del PD nel nostro territorio Elisnein stravince in tutto il Levante scelto il cambiamento per la candidata della sinistra addirittura il 66% dei consensi qua sul Levante contro il 34% di Bonaccini plebiscito per lei a Sestri Levante chiave nel Rapallo nel Golfo Paradiso quindi pensiamo che nel nuovo PD insomma la Liguria conterà anche abbastanza il presidente Emiliano si impone soltanto a Casarza Ligure dire il presidente Emiliano sembra il presidente della Puglia che si chiama veramente Emiliano di cognome invece no è il presidente Emiliano è il presidente Bonaccini quindi il suo candidato il suo diciamo appunto concorrente per una trentina di voti poi la candidata raddoppia i propri consenti rispetto al voto nei circoli quindi già nei circoli era andata molto bene e gioisce appunto la deputata di Sestri Levante Valentina Ghio che è una delle diciamo sul territorio una delle maggiori diciamo tra virgolette sostititrici no della Schlein il popolo dei mai seggi voglio partecipare per far ripartire il partito una giornata tra gli elettori ma i militanti e simpatizzanti alle 1 e poi poteva andare a votare veramente chiunque senza preclusioni di nessuno la vittoria è stata nettissima ora al lavoro è congiuntamente il comitato della mozione Schlein esulta anche per l'alta partecipazione tra l'altro la Schlein era stata a Chiavari qualche settimana fa mentre in Bonaccini c'è stato qualche giorno fa per tentare un po' di recuperare il divario con la Schlein quindi insomma comunque il Levante e la Liguria in generale è stata appunto la diciamo così la caposcuola la pilota di questa di questa vittoria della Schlein per il maltempo ieri sono state rinviate le ultime feste di carnevale in programma nella domenica diciamo del carnevale ambrosiano a Recco e Sestre Levante quindi nessuna delle due ha svolto la sua festa che appunto ha rimandato per la prossima domenica anzi no la festa di Via Tino Paggi viene dunque recuperata la prossima no domenica 12 marzo addirittura mentre invece a Sestre Levante a Recco ieri poi la festa non c'è stata fatta e verrà recuperata il prossimo 5 marzo a Rapallo il carnevale si è svolto ma in piazza Venezia sotto il gazebo tra l'altro Rapallo l'aveva diciamo rinviata da domenica scorsa invece domenica scorsa era una giornata anche molto calda e non piovosa quindi insomma ha avuto diciamo non ha avuto un'ottima intuizione non capisco cosa sia successo andiamo a vedere allora cerca di raggiungere l'ex compagna ma viene arrestato siamo alla cronaca sul Levante Ligure il Levante del secolo XIX l'uomo di 40 anni aveva il divieto di avvicinarsi alla donna nel tigulio ogni settimana 10 interventi per il codice rosso quindi questo è il codice di prevenzione alla violenza sulle donne ci sono uomini che sono appunto dimostrati violenti o comunque molto minacciosi nei confronti delle donne viene messo questo codice rosso non si possono più avvicinare neanche di un metro e appunto viene in caso di tentativo di raggiungere la persona a cui devono stare distanti che poi l'ex moglie l'ex fidanzata eccetera vengono fermati e arrestati quindi grazie a questo codice rosso si spera di prevenire molti molti femminicidi neve neve freddo e vento forte colpo di coda dell'inverno qua vediamo appunto santo Stefano Davito nelle vie del centro tutte quante nevate l'esperto dice è difficile prevedere il quadrometeo in continua evoluzione chiaramente però questa sarà una settimana che passerà con temperature decisamente più basse della media stagionale del periodo ai laghi di Giacoppiano registrate le raffiche più forti ben 124 km orari proprio una roba terribile e precipitazioni chiaramente nevose tutta la Val d'Aveto e poi l'addio a Carlo Solari che aveva 93 anni il teatro cantero perde l'ultimo proiezionista Cal Zipario su Unera i funerali saranno celebrati questa mattina alle ore 11 nella chiesa di Rupinaro e qua c'è la foto di Filippo Murali nel famoso film Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore che vinse anche l'Oscar e poi ancora accessibilità il film dei giovani studenti gli alunni delle medie con l'insegnante Monica Gardella e Virginia Lino a Camogli hanno realizzato un cortometraggio sull'accessibilità il comune Giabandiera Lilla appunto ha voluto sponsorizzare un po' questa iniziativa e poi Calata Castelletto sempre a Camogli proseguono i lavori rimaniamo appunto sulle pagine del Levante del secolo XIX aree spopolate in 70 anni il crollo la Val Daveto perde due terzi dei suoi abitanti in particolare la bassa parte della Val Daveto cioè parliamo di Rezzo Aglio il caso più eclatante ma anche Santo Stefano Daveto quindi anche in cima alla valle non è da meno con meno 56% uno studio di Open Police fotografa la costante emorragia di residenti soprattutto nelle zone dell'entroterra però un po' tutto il tiguglio è interessato anche località importanti come Santa Margherita come altre hanno una continua emorragia di residenti Casanza Ligure più 145% è in controtendenza insieme a Carasco con più 113% sono gli unici due comuni sul nostro territorio in forte aumento perché poi gli altri appunto hanno avuto tutte delle diminuzioni e qua la testimonianza del sindaco Roncoli appunto era tutto un altro mondo ricordo anche in mezz'adri i turisti per tre mesi consecutivi quindi insomma è chiaro che si ricorda un po' quello che negli anni 60 e 70 veniva un po' dappertutto ma anche a Rezzo Aglio evidentemente c'erano diciamo più accessi anche da parte diciamo dei villeggianti dell'epoca palazzina in fiamme evacuati i residenti vediamo dove è accaduto a San Colombano a Certeno li vediamo anche l'immagine di questa palazzina andata a fuoco e quindi c'è stata l'evacuazione di tutti i residenti l'incendio all'ultimo piano di una palazzina a San Colombano a Certeno poco dopo le ore 20 di ieri sera ancora da chiarire l'origine del rogo poi purtroppo con il vento sicuramente le fiamme non sono state facili da spegnere da parte dei vigili del fuoco di Chiaveri l'abitazione alla quale si è propagato l'incendio si affaccia proprio lungo la strada statale la 225 della Val Fontanabuona ci fermiamo un attimo con la lettura dei quotidiani perché vedo pronto in redazione Andrea Capitani buongiorno Andrea ciao Marco buongiorno buongiorno a tutti buon inizio settimana un aggiornamento veloce proprio sull'intervento di cronaca di cui facevi riferimento adesso l'intervento si è concluso nella tarda serata di ieri lo ricordiamo siamo a San Colombano Certeno lì ha preso fuoco un tetto vediamo proprio le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco con una squadra che è internata sul posto intorno alle 20 è stato necessario evacuare le persone che erano all'interno dell'abitazione lo ha fatto un vigile del fuoco fuori dal servizio libero dal servizio che però è intervenuto e ha messo in salvo i residenti di questa palazzina di due piani a cui è preso fuoco il tetto una copertura di circa 100 metri quadrati i vigili del fuoco hanno lavorato fino alla tarda serata di ieri in situazioni abbastanza complicate in quanto il vento ha soffiato e continua a soffiare forte sulla vallata e su tutto il territorio sono riusciti per quanto possibile dunque a limitare i danni al momento l'abitazione risulta non agibile e sempre per quanto riguarda i vigili del fuoco sono diversi gli interventi che stanno compiendo hanno compiuto a causa del vento forte proprio in questi minuti mentre vi stiamo parlando stanno operando per il taglio di alcuni alberi caduti nell'entroterra una situazione che comunque vede il monitoraggio del territorio non si segnalano particolari problemi legati al vento che continua però a soffiare forte e dalla redazione per il momento è tutto lì nello studio grazie Andrea grazie mille anche per tutte queste appunto questi aggiornamenti sulle notizie quindi vedete qualcosa c'era già sul secolo ma abbiamo dato un po' la completezza dell'informazione andiamo a Seste Levante dove c'è una nuova centenaria festeggiata appunto Valeria che compie cento anni bresciana di origine ma ama vestire alla giapponese e appunto è una abituata di Seste Levante e lì abita appunto a Villa Ilia complimenti e auguri alla signora Valeria andiamo ancora avanti sempre dal secolo XIX mercato col diretti in via del campo a Genova appunto con una foto anche di Fabrizio e di Andrei che ha reso immortale famosissima questa strada negli spazi fino a due anni fa occupati da un supermercato quindi lo street food e la col diretti hanno comunque dato nuova vita anche a questa questo immobile e questa via solidarietà alla preside Toscana da Calvino Cassini e Doria cresce la mobilitazione antifascista tra le scuole superiori ricordiamo questa preside aveva fatto una circolare per diciamo così puntualizzare alcune cose su un su un fatto di cronaca di un'aggressione appunto tra ragazzi tra diciamo parti contrastanti tra di loro insomma destra e sinistra e c'era stata un'aggressione lei aveva condannato dicendo anche il fascismo iniziò così e poi appunto arrivò un po' la reprimenda del ministro del ministro dell'istruzione Valditara e poi la solidarietà di tutti i colleghi poi Valditara un po' è tornato indietro nelle sue esternazioni andiamo adesso invece a aprire la pagina sportiva perché è chiaro siamo ad una siamo a lunedì quindi al giorno dopo le partite che tra l'altro hanno detto bene a molte squadre del nostro territorio con 3 a 0 3 a 0 è stato un risultato che insomma è iniziato il Genoa nel giornate di sabato ieri Virtus Sentella e Sesti Levante hanno entrambe vinto per 3 a 0 allora andiamo a vedere a Dancona che cosa ha combinato la Virtus Sentella davvero una grande squadra ieri che non ha dato la possibilità ai padroni di casa di esprimere nessun tipo di gioco perché davvero la Virtus Sentella è sempre stata padrona del campo fa la voce grossa a Dancona Tomaselli Zamparo e Marcai Tenori decimo risultato utile consecutivo per i bianco celesti Cesena ha superato e secondo posto in cassaforte questa è la notizione della domenica di ieri il Cesena che invece ha pareggiato è stato superato da Virtus Sentella adesso è seconda davanti c'è solo il Frosinone che ormai sta facendo un po' un assolo tipo quello del Sesti Levante in Serie D quindi è chiaro che riuscire a raggiungere la prima posizione sarà abbastanza impossibile però mantenere la seconda posizione è fondamentale per la Virtus Sentella per sperare appunto in una promozione in Serie B successo del gruppo continuano continuiamo a crescere dice Gennaro Volpe che in un certo periodo era stato anche contestato dai tifosi perché sembrava che la squadra non desse più non avesse più mordente non desse più segnali di vita e invece ha fatto bene la società ad insistere a farlo rimanere sulla panchina perché adesso sta esprimendo davvero un ottimo calcio Gennaro Volpe insomma grande calciatore prima è capitano della Virtus Sentella della promozione e adesso in panchina da un po' di tempo adesso andiamo invece a un altro 3-0 quello del Sestri Levante tra l'altro in una giornata in cui la Sanremese che è la diciamo l'inseguitrice è stata è stata fermata in casa poi è successo un problema nel senso che si è infortunato l'arbitro e quindi la partita è stata sospesa andiamo a vedere appunto il Chisola sorprende la Sanremese finisce 2-1 ma 15 minuti prima della fine reale della partita infatti il match è stato interrotto al 78esimo sul risultato parziale di 1-2 si riprenderà l'8 o il 15 marzo al comunale gol bianco-azzurro di Rizzo e ospiti a segno con Viano e Bove poi c'è stato questo infortunio dell'arbitro quindi tutti negli spogliatoi la partita è stata sospesa ma il Sestri Levante invece non ha avuto nessuna pietà del Pondonnaz questa formazione valdostana e quindi finisce 3-0 il Sestri prosegue passeggiata sul Pond grazie a Super Cominetti e Marquez il 23esimo successo dei Rosso-Blu ora sono 13 punti di vantaggio sulla Sanremese che addirittura appunto ieri era stata un po' fermata poi vedremo se nel proseguo della partita riuscirà quantomeno a pareggiare o addirittura a vincere comunque sono davvero tanti punti di distacco tra il Sestri Levante e la Sanremese quindi insomma non si può dire in ambiente perché chiaramente nello sport vige l'assoluto obbligo di non dire niente prima che succeda però è chiaro che la prima posizione è indiscussa ed è tra l'altro il Sestri Levante è una squadra che esprime anche un ottimo calcio andiamo invece in serie eccellenza dove ieri i risultati non sono arrivati in realtà perché le nostre squadre impegnate hanno o pareggiato o perso la Lavagnese poteva avere la meglio sulla forza e coraggio in casa di quest'ultima quindi a Genova ma non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 però nel contempo anche l'Albenga non ha fatto di meglio 0 a 0 con il Riva Samba quindi per il Riva Samba un risultato davvero importante perché aver fermato la prima in classifica in casa sua quindi davvero un'impresona del Riva Samba 0 a 0 mentre invece purtroppo la squadra di Rapallo perde 2 a 0 con una forte squadra come l'Imperia quindi l'Imperia 2 Rapallo 0 e questi sono i risultati della Domenica Calcistica per il nostro territorio adesso andiamo a vedere se ci sono degli appuntamenti per oggi nella nostra consuetta agenda appuntamenti per lunedì 27 marzo proseguono i corsi di cultura alle 16 e 15 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari Fausto Figone terrà una lezione di storia del territorio leggende locali e loro radici l'immaginario popolare tra fantasia e storia a Palazzo Balbi Cattaneo in Via Balbi a Genova Laura Stagno e Sara Rulli parleranno della città mai nata inizio alle 16 e 30 secondo appuntamento con Fantasticamente letture per bambini e famiglie sul tema i diritti dei bambini alle 17 alla biblioteca di Riva Trigoso di Sestri Levante Passioni un Vangelo che parla a tutti e il titolo della mostra allestita nei locali della Curia di Savona sono esposte 40 opere a tecnica mista di Don Andrea Camoirano l'esposizione resterà allestita fino al 12 marzo con orario da lunedì al sabato dalle 17 alle 20 la domenica dalle 10 alle 12 e 30 c'era una volta in Italia Giacarta sta arrivando di Federico Greco e Mirko Melchiorre sarà proiettato al Cinema Sivori in salita Santa Caterina a Genova introduce il regista Mirko Melchiorre l'inizio alle 20 e 30 quello che sembra quasi sicuro è che per questa giornata di lunedì 27 febbraio sulla fascia costiera non si rischino precipitazioni quindi la situazione è di una giornata asciutta secca perché nonostante le nuvole comunque abbiamo veramente pochissimi valori di umidità e comunque ancora delle nuvole che possono qua e là nel corso del pomeriggio essere anche un po' diciamo così trafitte da qualche raggio di sole come direbbe il poeta e appunto abbiamo invece delle residue nevecate ma saranno di breve e di scarsa intensità sulle Alpi Liguri e sulle Alpi Marittime ma anche sul comparto a Vetano e anche sull'Alta Val di Vara nel versante Padano per il resto insomma non c'è da segnalare altro se non il vento il vento che soffia ancora molto molto forte settentrionale ma con attenuazione nel corso del pomeriggio sul Levante mare molto agitato per onda da terra il Mar Ligure occidentale a largo tra molto mosso e agitato altrove mosso o stirato lungo la riviera di Levante le temperature questo pomeriggio non andranno al di sopra dei 9 gradi per domani 28 febbraio una giornata di tregua diciamo con soleggiamento sulla costa e invece qualche nuvola in più negli entroterra qualche spolverata di neve potrebbe ancora scapparci sulle Alpi Liguri e Marittime ma non sul Levante per quanto riguarda i venti domani torneranno ad essere burrascosi dei quadrati settentrionali quindi se ci sarà un calore pomeriggio non possiamo dire beh è passato perché domani invece torneranno rafficati tesi o forti sul Levante con rinforzi ulteriori sulle aree soggette del Tiguglio mare agitato a largo molto agitato nel settore occidentale verso la costa azzurra mosso stirato lungo la riviera di Levante le temperature rimarranno come quelle che abbiamo visto praticamente questa notte leggera ripresa invece domani per le massime sulle riviere complice il soleggiamento poi per la giornata di mercoledì al momento la previsione è di un nuovo peggioramento con la possibilità di precipitazioni che saranno a carattere nevosi su tutto l'entroterra della Liguria grazie ad Alessandro Bavestrello che ha curato la parte tecnica alla regia in questa seconda edizione del Tg Rassegna Stampa un saluto anche agli amici che abbiamo visto in redazione Andrea Capitani che ci ha parlato e di spalle abbiamo visto Maurizio Garrefa che stanno già preparando l'edizione delle 12.45 del nostro telegiornale a cui vi diamo naturalmente appuntamento noi ci rivediamo domattina ore 7.30 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio naturalmente di una buona giornata ma di un'ottima settimana con Telepace e Radio Pace a presto